Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, allora è il day after di Juventus Inter, altro scontro diretto perso, perso molto male e adesso tra poco vi spiegherò perché anche attraverso le pagelle, ma oltre al day after di Juventus Inter è stato anche il giorno dei sorteggi e lì c'è andata benissimo ragazzi, l'Inter ha trovato il porto in questi ottavi e voglio dirlo già ora la concreta speranza di andare ai quarti di finale, capisco che in questo momento di negatività tutto faccia paura ma siccome si gioca il 14 febbraio, ripeto il 14 febbraio 2023 a San Siro, praticamente tra tre mesi e il ritorno sarà il 7 marzo in Portogallo, voglio credere che dopo il mondiale, dopo la ripresa del campionato non avremo l'Inter in quel momento lì, che prende regolarmente 2-3 gol a partita, che non vince uno scontro diretto, che ha la peggiore difesa del campionato in trasferta, persino Spezia e Cremonese hanno preso meno gol, 19 gol subiti, insomma tutto quello che stiamo vedendo in questo momento con tutte le negatività che conosciamo, voglio sperare che a marzo, a febbraio per lo meno quando ci sarà il Porto, siano un lontano ricordo, perché sennò è giusto che vai a casa, però noi non possiamo dire che ci sia andata male, anzi rispetto ad altri sorteggi abbiamo preso, abbiamo pescato la squadra che volevamo, almeno che io volevo, tra le due portoghesi Porto e Benfica, la classifica della Primera Liga, ci dice che è più forte il Benfica, perché il Porto in sé, questo non ricordo male, ha 8 punti, certo negli occhi oggi nel day after noi abbiamo ancora il disastro di gol, la messe di occasioni sciupate in Juventus-Inter, quindi siamo portati negativamente a vederci condannati, fuori da tutto, riprende naturalmente, adesso Allegri è tornato scienziato, la Juve è tornata in lotta per lo Scudetto, l'Inter fuori da tutto, in zaghi out, la negatività tipica del tifoso che cambia idea ad ogni partita, la conosco bene, ed è legittima, ed è legittima, perché se hai perso 5 partite, il dato comprovato finora è che una squadra che perde 5 partite di campionato, lo Scudetto non lo può vincere, questo è effettivamente un dato comprovato, però noi dobbiamo dire che al di là del Napoli, che in questo momento è davvero ingiocabile, ammazza tutti, dal secondo al settimo posto, quello dell'Inter sono tutte in un fazzoletto di punti, certo che adesso lo scontro diretto, l'ultimo, proprio nel giorno in cui poi il campionato si ferma il 13 novembre a Bergamo diventa fondamentale, certo, ed è chiaro che con quello che abbiamo visto, lo scempio che abbiamo visto in Juventus-Inter, adesso essere ottimisti è difficile, qualche pagella però ve lo devo fare ragazzi, perché questi ragazzi, i nostri, al di là del nostro amore, meritano anche qualche legnata. A Onana ho dato 6 perché è stato praticamente freddato alla prima occasione, però insomma è stato anche bravo nel deviare sul palo la conclusione di Kostic, su Fagioni non poteva nulla, mi resta sempre l'idea che se questi gol poi li prende Andanovic siamo qui alla condanna, se li prende Onana, siccome in questo momento Onana c'è simpatico, però vedete che non è cambiato molto, continuiamo a prendere due o tre gol a partita, anche se cambi il portiere. Perché? Perché sia Skriniar, De Vrij, che Acerbi sono stati ancora una volta insufficienti, io ho dato 5 a Skriniar, 5 anche a De Vrij e tutto sommato do 5 e mezzo ad Acerbi perché ci ha provato ad andare al tiro, però insomma uno non ha chiuso su Fagioli, l'altro a un certo punto con un fallo su Rabiot ha perso sicurezza, era messo male anche sul raddoppio bianconero, sto parlando di Skriniar, De Vrij ha provato a tenere il braccio di Danilo e in qualche modo ci ha risparmiato per il regolamento che arrivasse già lì il 2 a 0, però ragazzi la difesa è male. Non ho dato un voto a Darmian che è entrato, non ho dato un voto a Bellanova che è entrato, però ragazzi Bellanova continua a darmi, diciamo senza voto ma mi danno un'idea tutto sommato di, cioè Bellanova mi danno un'idea ancora di non essere pronto. Dunfris l'ho visto come un disastro, lo dico sinceramente, gli ho dato 4 e mezzo perché ha avuto una grandissima occasione sull'assist di Barella, si è mangiato un gol che segnava anche mia mamma adesso ragazzi e ha terribilmente, drammaticamente perso il duello con Kostic. Barella anche lui 5 e mezzo perché comunque i suoi movimenti ci sono sempre e lui che mette la palla d'oro a Dunfris però ha la grave colpa di non ricorrere al fallo mentre gli va via Kostic che poi mette l'assist per il rabbio del vantaggio bianconero. Poi si è innervosito, ha sbagliato molto, insomma anche Barella 5 e mezzo. A me è sembrato che invece Cialanoglu, il quale ho dato 6 e mezzo per quanto ha marcato a uomo Damiretti sia stato l'unico che non ha perso la testa e quindi Cialanoglu secondo me è una partita difficile, gli do 6 e mezzo, ci ha provato anche da fuori area, ha obbligato, scesne una deviazione sulla traversa, insomma a me è piaciuto abbastanza. Entrato a un certo punto Correa, lo giudico adesso perché ha rilevato Cialanoglu, sì è vero che ha messo l'assist per Lautaro che poi si è mangiato il gol per ragazzi Correa, lo sapete siccome sono un Correista e ogni volta che non fa qualcosa che mi resta non gli do la sufficienza quindi gli do 5 e mezzo, mi dispiace ma non mi interessa. Anche Mkhitaryan 5 e mezzo perché a un certo punto è partito bene, mi era piaciuto però è calato troppo la distanza. Sostituito da Gossens 5 e mezzo anche lui, ha letto tardi il cross di Kostic che è finito a Fagioli, poi ha perso anche un paio di palloni veramente brutti, insomma Gossens continua a restare insufficiente. Il professor Dzeko gli ho dato 6 soltanto perché è stato vicinissimo al gol e perché mi è sembrato che insomma si è riuscito come sempre a lottare, a difendere il pallone, a raccordare, a fare quel ruolo che lui riesce benissimo, no? Il centravanti diciamo regista, però ragazzi sei giusto per l'impegno. Lautaro Martinez mi spiace ma gli devo dare 4 e mezzo, lo so che è terribile, potrei anche dargli 5 ma insomma mancino potente a fil di palo, si liberava bene però ogni volta ragazzi, con Bremer l'ha vista poco e devo dire che quando a un quarto d'ora dalla fine si è presentato a tu per tu con Scesni e se l'è mangiato il gol, non posso dargli molto, 4 e mezzo scusate. Non ho dato il voto a Brozovic ma gli do senza voto perché è entrato nel finale, devo dire che ha avuto un pallone sul quale è stato anticipato ancora una volta da Bremer e lì partito poi il 2 a 0 di Fagioli della Juventus, diciamo Brozovic senza voto. Ragazzi credo di non aver dimenticato nessuno se non Inzaghi al quale però onestamente non posso dare un votaccio perché il primo tempo l'Inter l'ha giocato molto molto bene, se poi là davanti non sono capaci di metterla dentro, è chiaro che gli do 5 e mezzo, io non sono neanche così dell'idea che abbia, come dice sempre qualcuno ha sbagliato i cambi, però è chiaro che lui ha la guida di questa squadra, io non trovo che questa volta i cambi siano così discutibili, però un fatto è certo, ha perso l'ennesimo scontro diretto. Ragazzi almeno oggi cerchiamo di leccarci le ferite, adesso c'è Inter-Sandoria, vi ricordo soltanto, visto che l'abbiamo seguito in live chat oggi, quello che è successo nei sorteggi di Champions, Lips e Manchester City, Bruges-Benfica, Liverpool-Real-Madrid che sfida, Milan-Tottenham con Conte che appunto Antonio Conte che andrà contro i rossoneri, poi Entrax-Napoli, il Napoli in questo momento è in grado di battere l'Entrax ma bisognerà vedere naturalmente a febbraio, Borussia Dortmund-Celsea, PSG-Bayern, altra partitissima incredibile che priverà questa competizione di una top club e poi appunto Inter-Porto, vi hanno seguito anche l'Europa League, la competizione dei poveri, vabbè però la facevamo fino a un po' di tempo fa, Barcellona-Manchester United invece qui per quanto riguarda gli spareggi anche questo che è partitone, Sporting-Milcilan, poi Spartak-Ren, Ajax-Union-Berlino, Bayer-Leverkusen-Monaco, Siviglia-PSV-Eindhoven, sfortunata la Roma che ha trovato il Salisburgo, fortunata la Juventus che ha trovato il no. Ci fermiamo qui ragazzi e speriamo in tempi migliori, dobbiamo far 6 punti nelle prossime due partite, se continui a prendere gol anche dagli spettatori è chiaro che la cosa è tutt'altro che facile. Vi saluto e a presto.